La rinuncia dell'Isernia Calcio 5 al campionato di Serie A2 ha lasciato svincolati diversi giocatori. Partiamo dalle ultime operazioni di mercato ufficializzate proprio ad ora di pranzo. Mercato in fermento, in casa circolo la nebbia, Cusso Molise, la società presieduta dalla famiglia dell'Omo. Dopo la prima giornata di campionato ha cambiato più di qualcosa nel suo organico. Diverse infatti sono state le operazioni sia in entrata che in uscita portate al termine dal sodalizio molisano. Quattro gli addir da registrare, non fanno infatti più parte della rosa, il portiere Andrea Pietrunti, che è stato sollevato anche da tecnico dell'Under-19, e i giocatori Diaz Molina, Cristian Iglesias e Desimio. Il club molisano, dopo aver riportato a casa Leo Melfi, ha infatti ingaggiato l'ex capitano dell'Isernia Calcio 5, Orlando Bidinotti, ed il portiere Costantino Sarachella, anche lui ex Bianco Celeste. I due si sono già allenati con i nuovi compagni e saranno regolarmente a disposizione di mister Sanginario per la prima sfida casalinga della stagione sabato pomeriggio contro il Ruvo. Per quanto riguarda la formazione Under-19, la squadra è stata affidata momentaneamente a Giovanni Plescia, ma nei prossimi giorni la società svelerà il nome del nuovo allenatore chiamato a guidare il gruppo nella stagione che scatterà domenica 22 ottobre in casa contro l'Aquila. Veniamo adesso alla Chaminade. Umberto Caruso è di nuovo un giocatore de Rosso Blu, un riforzo che va a certificare le ambizioni del club Campobassano che ha fatto un ulteriore sforzo per aumentare il livello di competitività della squadra allenata da coach Pizzuto. Caruso è reduce dalla vittoria del girone F di Serie B con l'Isernia. Subito dopo la marcia trionfale dell'ultima stagione, il club bianco celeste aveva riconfermato il pivot, poi il noto epilogo della rinuncia al campionato di Serie A2. Caruso sarà già a disposizione per la trasferta di sabato a Pratola. Ma a proposito della squadra, ai nostri microfoni, la bella. Diciamo che abbiamo finalizzato poco e al contrario di loro, quelle poche occasioni che hanno avuto hanno saputo far gol. A noi ci è mancato proprio questo. La prossima partita vi vedrà in scena a Pratola. Che cosa vi aspettate? Che partita vi aspettate? Ogni partita è dura, però se lavoriamo, ci alleniamo come si deve, con la testa e con il cuore, sicuramente potremo vincere anche quella partita. Però, come detto, se non lavoriamo e non ci alleniamo come si deve, andiamo da nessuna parte.